Ok Sam, lui è qui, noi siamo qui, andiamo. Aspetta, andare dove? A Luna Park, così ci pagano, razza di scimmione. Forse sono lento, ma non sono stupido, rimango qui dove mi trovo. Psst, Max. Cosa? Forse dobbiamo aspettare un attimo prima di riportare Bruno ai suoi benintenzionati ma orribilmente contorti proprietari. Perché? Perché ho una strana premonizione che qualcosa di importante capiterà ai piedoni e sarebbe bello se Bruno fosse presente prima di rificarlo dentro il blocco di ghiaccio. Ti stai ramollendo, Sam. Abbiamo deciso di farti gironzolare liberamente fino alla fine del convegno. Ehi, grazie! C'è qualcosa che posso fare per voi in cambio? Cosa ne deduci da quel palo totem sulla sinistra? Fammi vedere! Ma? È un palo totem! E? È fatto di legno! Non è troppo tardi per riportarlo a Luna Park, lo sai! Cosa ne dice il tuo intuito da piedone del palo totem con il dente? Lo sto fissando da ore e... Sì? Credo che abbia qualcosa a che fare con denti! Non tratterrò il respiro, ma hai la più pallida idea circa l'identità del tizio nel terzo palo. No! Ma sembra che abbia un'affinità con le verdure! Sam, il tizio su quel palo ha un marshmallow! Allora? Anch'io voglio un marshmallow! Max, tu sei un marshmallow! Vedi quel palo! E allora? Cosa credi che significhi? Ho capito! Cosa ha detto lui? Ho detto che dovevano cercare uomini calvi con spaghetti in testa! Allora, cosa ne pensi di tutto ciò? Sono semplicemente contento di essere qui, Sam! Felice di essere a temperatura ambiente e di essere finalmente libero! Born free, as free as the wind blows! Max! Cosa? Cosa stavi dicendo, Bruno? Eh, ho perso il filo! Dannazione! Come vi siete incontrati tu e Trixie? Non ci siamo incontrati finché non mi ha scongelato, ma l'ho amata da quella prima notte che si è introdotta nel tendone e mi ha cantato una nina nanna scrantonese. E tu vuoi rimetterlo in un blocco di ghiaccio? Sì, e allora? Mi arrendo. Cosa farai adesso che non hai più corroi tra i piedi? Perché non provi a lavarli? Ci sono ancora i Cushman a cui pensare. Diciamo che non sono molto tranquillo. Ci vediamo. Non si guarda dall'altra parte! No. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fantastico! Sembra che abbia tolto il tappo. Facciamo un brindisi al disarmo nucleare? Ho questo veleno. Non essere cretino. Così sembra aver tappato la panna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Possiamo provare il vortice. Entrate pure, ciao! Grazie a tutti. Wow, la palla di neve ha risucchiato le energie pseudomistiche del vortice misterioso. Speravo che capitasse qualcosa del genere. La palla di neve ha risucchiato la palla di neve ha risucchiato. La palla di neve ha risucchiato la palla di neve ha risucchiato la palla di neve ha risucchiato. La palla di neve ha risucchiato la palla di neve. La palla di neve ha risucchiato la palla di neve ha risucchiato la palla di neve ha risucchiato il vortice. Grazie a tutti.